Crescono le prospettive occupazionali nel Comasco. Come emerge dai dati di Union Camera e del progetto Excelsior relativi alle proiezioni da parte delle aziende della provincia di Como diffusi dalla Willa dell'Ario, nel trimestre settembre-novembre 2023 si evidenziano 630 ingressi in più rispetto allo stesso trimestre del 2022, 30 dei quali nell'industria e 600 nei servizi. Nella provincia lariana nel mese di settembre sono previsti 6.010 nuovi ingressi in valore assoluto, 4.550 dei quali nei servizi. Ancora una volta i dati confermano che il contratto a tempo determinato è quello prediletto dalle aziende, in particolare nei settori del turismo e dei servizi. A Como nel mese in corso sono previste assunzioni al 25% con contratti stabili, al 75% con contratti a termine. Le figure professionali più ricercate a settembre in provincia sono gli esercenti e gli addetti alle attività di ristorazione. i docenti di scuola secondaria e il personale dei servizi di pulizia. La prospettiva reddituale non è più all'altezza dei crescenti costi della vita che assillano classe operaia e dipendenti, commenta Dario Esposito della Will dell'Ario, tra le priorità rinnovare i contratti scaduti, introdurre aumenti defiscalizzati e aiuti ai pensionati. E non si può dimenticare un altro pilastro della buona occupazione, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, scelte essenziali per colmare il disequilibrio tra domande offerte di lavoro in ambiti cruciali, come quello del turismo, del tessile e del terzo settore.